Bill Gates, paura eh? Quante volte è stato citato in questa pandemia, autore per alcuni della nascita del Covid? Eccolo lì, il bastardo. Intento a presentare il nuovo vaccino anti-Covid con 5G, GPS e Bancomat per togliervi tutti i vostri soldi. E non sto neanche a dirvi quante volte si è supposto che tutta questa storia della pandemia sia stata solo un vantaggio per le Big Pharma. Ma è veramente così? Beh, è passato più di un anno dall'inizio di questa pandemia e quindi direi di tirare un po' di somme e cercare di rispondere a questa domanda. Una prima risposta potrebbe arrivare dagli andamenti nei mercati finanziari. Innanzitutto per Big Pharma spesso si intende l'intera industria farmaceutica. E quindi per vedere gli andamenti nei mercati finanziari ho deciso di prendere un indice che racchiude le principali case farmaceutiche quotate nel mercato finanziario americano. Però come vedete da solo questo indice non è che ci dice granché, dobbiamo trovare un metodo di paragone per vedere effettivamente se il Covid è stato un vantaggio per le Big Pharma. E così ho deciso di prendere un indice di borsa americano molto famoso e cioè l'SP500, che sarebbe appunto un indice di borsa che racchiude le 500 imprese a più grande capitalizzazione all'interno dei mercati finanziari americani. Perché sto facendo tutto ciò? Perché se effettivamente questo Covid fosse un vantaggio per le Big Pharma, allora ci dovremmo aspettare che l'andamento in borsa del settore farmaceutico sia molto maggiore rispetto al nostro indice SP500. Come vediamo non butta bene per le Big Pharma. Infatti dopo una performance più o meno simile rispetto all'SP500, ad oggi i loro titoli sono aumentati solo del 16,91% contro le altre aziende che fanno tutt'altro rispetto ai farmaci e vaccini che hanno aumentato i loro titoli in borsa in media del 31,68%. Quindi in piena pandemia è più utile puntare i vostri soldi su Amazon, Apple o Zoom piuttosto che le Big Pharma. Guardate Zoom, che erezione poderosa che ha avuto eh! Però siamo sinceri, questi dati sono pur sempre dei dati aggregati, rappresentano l'intera industria farmaceutica, il problema è che le aziende che hanno prodotto i vaccini sono molte di meno rispetto al totale. Quindi questi dati ci dicono qualcosa ma non ci rappresentano tutta tutta la situazione. Quindi direi di prendere le cinque aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini più diffusi al mondo e cioè Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, BioNTech e AstraZeneca. Direi di partire da Johnson & Johnson e Pfizer che sono le aziende più grandi e che sono anche all'interno dell'indice SP500 e dell'indice del settore farmaceutico, entrambi gli indici che abbiamo visto all'inizio del video. Come possiamo vedere il rendimento dei titoli farmaceutici Johnson & Johnson e Pfizer si fermano rispettivamente ad un più 10,81% e ad un 13,64%. Quindi dei risultati al di sotto della media delle Big Pharma è anche molto di meno rispetto al nostro punto di riferimento cioè l'SP500. Interessante è il picco di Pfizer a dicembre in concomitanza con l'approvazione del suo vaccino. Boom in borsa che si è subito dopo sgonfiato. Un'altra grande azienda che produce un vaccino anti-covid è AstraZeneca che nell'ultimo anno ha fatto segnare un più 20,68%. In questo caso un andamento superiore alla media delle Big Pharma ma anche qui risultati molto inferiori rispetto alle più grandi aziende quotate in America. Mancano le ultime due, Biontech e Moderna. Dovete sapere tra l'altro che le aziende in borsa si chiamano tramite degli acronimi ad esempio Amazon è uguale a AMZN. Ecco per i biocosi come ad esempio Entropy for Life fa piacere sapere che Moderna in borsa si chiama mRNA proprio come la tecnologia utilizzata per il vaccino. Detto ciò queste due aziende Biontech e Moderna non fanno parte né dell'SP500 e né nel nostro indice farmaceutico. Questo perché sono delle aziende poco quotate ed è proprio qui che ho scoperto che le cose incredibilmente cambiano. Il mercato infatti le ha premiate molto di più rispetto alle sorelle maggiori segnando rispettivamente un più 716,67% per Biontech e un più 967,04% per Moderna. Per farvi capire l'ordine di grandezza se avessimo investito 100 euro per ciascuna di queste due aziende in un anno il nostro profitto sarebbe stato pari a 1400 euro. Oppure ancora Tesla ci ha impiegato 3 anni per far crescere il proprio titolo in borsa dell'800% e già qui è un'impresa molto difficile. Invece loro due ce l'hanno impiegato solo un anno. Però in fondo non ero ancora soddisfatto. Infatti per avere un quadro migliore della situazione ho pensato che guardare solo i indici di borsa non era abbastanza in fondo. Anche perché la teoria complottista riguardo le big pharma recrimina queste aziende di fare innumerevoli profitti proprio grazie ai vaccini. E quindi ho iniziato a indagare riguardo agli utili prodotti da queste 5 aziende. Fortuna vuole che qualche settimana fa queste aziende hanno pubblicato i loro risultati economici per il primo trimestre 2021. Che è una cosa perfetta in quanto è il trimestre in cui hanno iniziato a distribuire i vaccini a pieno regime. E quindi se io confronto gli utili nel primo trimestre 2021 rispetto agli utili nel primo trimestre 2020 beh riuscirò a capire con un certo grado di approssimazione quanto i vaccini siano stati utili e hanno generato profitti nei confronti di queste aziende. E così mi sono messo a lavoro tra file pdf, foglie excel e nomi di farmaci abbastanza strani. Ad esempio il tagrisso che per me sa di un animale piccolo e grasso. Forse perché richiami tardigradi. Vabbè basta altrimenti diventa una puntata di barbascura ex. E così ho iniziato la mia avventura nel mondo dei farmaci. No vabbè forse anche così sembra un po' brutto. Eh che c'è? Dai di la verità. No ma dai no. Dai. E va bene per tutto ciò ci ha pensato Statista. Eccolo lì il grafico bello pronto. Oh però dai un giro nel mondo dei farmaci me lo sono fatto comunque eh. Cioè giusto per verificare le fonti. Quindi gli utili di Johnson & Johnson tra il primo trimestre 2020 e il primo trimestre 2021 sono cresciuti del più 6,9%. Quelli di Pfizer del più 44,1%. Quelli di AstraZeneca del più 100%. Mentre gli utili di Moderna e BioNTech da negativi sono passati in abbondante positivo. Però ci sono da fare alcune precisazioni. Ad esempio AstraZeneca ha detto che dalla vendita del vaccino ha generato 275 milioni di dollari di ricavi. E quindi quel 100% di aumento di utile non è assolutamente da imputare in primo luogo alla vendita dei vaccini. Allo stesso modo Johnson & Johnson ha dichiarato che dalla vendita dei vaccini ha generato dei ricavi pari a 100 milioni di dollari. E quindi anche qui il suo più 6,9% tra un primo trimestre 2020 e il primo trimestre 2021 non è da imputare alla vendita dei vaccini. Mentre per Pfizer sembra che la vendita dei vaccini abbia generato una buona dose di ricavi. Ma andiamo al dunque. Il grafico praticamente ci riassume un pattern che abbiamo già trovato andando ad analizzare le quotazioni di borsa di queste aziende. Che praticamente è il seguente. Per le grandi aziende, in particolar modo per AstraZeneca e Johnson & Johnson, ma questo vale in parte anche per Pfizer, sono delle aziende che effettivamente possono essere definite le Big Pharma, che operano nel mercato farmaceutico da tanti anni e sono anche abbastanza grandi. Bene, per queste aziende i profitti generati dalla vendita del vaccino sono stati abbastanza contenuti. Per una serie di ragioni. Innanzitutto la grandezza del mercato, del settore farmaceutico, che è pari a 1.300 miliardi di dollari, dove una parte del vaccino anti-covid è sicuramente una parte minoritaria. Quindi sia per scelte strategiche che anche per la difficoltà di cambiare il proprio business nel breve periodo, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Pfizer non hanno ovviamente incentrato tutta la loro produzione nella creazione del vaccino anti-covid. Situazione ben diversa per quanto riguarda Moderna e Biontech, che sono delle aziende farmaceutiche molto più piccole e che sono presenti all'interno del settore rispettivamente da 11 e 13 anni. Addirittura Biontech, in tutta la sua storia, non ha mai chiuso un trimestre inutile. Questo è il suo primo trimestre in positivo. C'è da considerare quindi ovviamente che per queste due aziende così piccole che nell'ultimo anno hanno puntato tutto il loro business per la sperimentazione e produzione di vaccini anti-covid, è ovvio aspettarsi che, essendo appunto questo il loro core business, abbiano anche ottenuto dei guadagni e dei ricavi anche in borsa molto maggiori rispetto a delle aziende di lunga data e che hanno una diversificazione di prodotti all'interno del settore farmaceutico. Inoltre la tecnologia mRNA utilizzata proprio da Moderna e Biontech sembra avere delle buone prospettive anche in futuro e per questo sono state premiate molto dai mercati finanziari. Al contrario invece le grandi aziende tipo AstraZeneca e Johnson & Johnson hanno puntato su dei vaccini più classici a vettore virale, mentre Pfizer si è affiancata a Biontech per sviluppare questo nuovo vaccino con questa nuova tecnologia da mRNA. Infine per completezza bisogna considerare ulteriori fattori. Ad esempio il primo che mi viene in mente è quello del prezzo dei vaccini, spesso calmierato. Abbiamo già citato AstraZeneca che ha deciso fin dall'inizio di vendere i propri vaccini ad 1,78€ per dose. Allo stesso modo lo si è fatto con Pfizer, anche se Pfizer ha deciso di implementare una strategia un po' più aggressiva e quindi basando il prezzo dei vaccini in base alla destinazione d'arrivo dei vaccini. Quindi se un paese era un paese ad alto reddito, allora il prezzo del vaccino era maggiore rispetto al vaccino destinato ai paesi più poveri, ad esempio. Che è uno dei motivi che potrebbe spiegare i grandi ricavi che Pfizer ha ottenuto dalla vendita dei vaccini. Anche se l'azienda ha sempre dichiarato di vendere il proprio vaccino a un prezzo scontato, senza contare alle numerose dosi che dovranno essere spedite ai paesi più poveri del mondo grazie all'accordo COVAX e quindi a prezzi molto inferiori rispetto al normale. Inoltre ci sono da considerare anche ad esempio altre aziende che vogliono entrare all'interno di questo mercato oppure ancora la tanto discussa proposta riguardante l'abolizione dei brevetti sui vaccini. Entrambi fattori che potrebbero aumentare la concorrenza e quindi diminuire i ricavi, i profitti per quanto riguarda questo vaccino. E non vogliamo anche parlare della fantastica storia di AstraZeneca che a caso dei suoi continui ritardi nella distribuzione del vaccino all'interno dell'Unione Europea ha costretto proprio la Commissione Europea a recedere dal contratto con AstraZeneca. Questa cosa l'ho citata proprio per indicare che la produzione e la distribuzione dei vaccini non è assolutamente un gioco da ragazzi, è un facile guadagno per le Big Pharma come i complottisti vogliono asserire. Insomma la lezione di oggi è che se volete fare soldi in piena pandemia beh allora non puntate sulle Big Pharma perché ci saranno sicuramente delle imprese che avranno delle performance migliori. A meno che non riusciate a trovare una piccola impresa con una tecnologia molto innovativa e che per sviluppare questa tecnologia ha avuto in tutta la sua storia dei bilanci sempre negativi. Allora a quel punto bravi voi. Detto ciò spero che questo video lo abbiate trovato interessante ringrazio come al solito gli abbonati che riescono a sostenere e a rendere possibile questo show e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.